Tre giorni dedicati al pubblico e agli operatori del settore con degustazioni ai banchi di assaggio presso la Pinacoteca Civica e con tre masterclass focalizzate sulle denominazioni tutelate dal Consorzio presso la Sala Ippoggia di Teramo. Sono queste le iniziative della terza edizione dell'evento La Nostra Anteprima, The Cool on the Hills, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Colline Teramani in programma dal 4 a 6 marzo. Sì, il 4, il 5, il 6, rispettivamente sabato, domenica e lunedì prossimi. Aspettiamo chiunque abbia la curiosità di assaggiare la migliore produzione delle colline teramane presso la Pinacoteca Civica di Teramo, inizio di Viale Bovio, con banchi d'assaggio dove sarà possibile appunto assaggiare vari vini di tutte le aziende iscritte al Consorzio. In più, contemporaneamente, sempre il 4 e il 5, quindi sabato e domenica, sono organizzate delle degustazioni guidate, degli approfondimenti sui nostri vini principali, quindi il Colline Teramane e poi abbiamo organizzato un focus sul pecorino che si fa nel Teramano. Kermes è organizzata anche per festeggiare i 20 anni del Consorzio. Era il 2003 quando un gruppo di cantine fondatrici con l'ottenimento della DOCG per il Montepulciano d'Abruzzo, Colline Teramane, ha deciso di valorizzare la produzione di questo vino prodotto in 33 comuni interamente compresi nella provincia di Teramo. Non potevamo non celebrarlo, essendo il premio per tutti i viticoltori della provincia di Teramo che hanno contribuito alla nascita di questa, che è stata la prima DOCG d'Abruzzo ed è sicuramente una delle punte di eccellenza della produzione vinicola regionale. E quindi è una festa per noi e per tutto l'Abruzzo ed è l'occasione per raccontare ciò che è intorno al vino, cioè il territorio Teramano, la sua storia e la vicenda che ha portato alla nascita di questa DOCG.